tutto pronto buonasera bentornati a per col destro di lanza comincia questa prima partita di titanium league tra atletico valiente e red bull braga antino occhio a lanza vai qui lui con la bomba può salire ora monaco che ha un po di campo a corso ora marfitano va via bene monaco va via anche al secondo ancora monaco fa tutto da solo contrastato la lanza la palla arriva all'ante sul fondo palla dentro assegnato monaco 1 a 0 capa bianca zona tiro prova il destro ad incrociare palla sul fondo vacchi white sul palo del portiere palla sul fondo nessuno ancora manco centrale c'è capa bianca palla dentro per d'angelo 2 a 0 bomba che piega le mani aprisco occhio alla bomba palla dentro per l'ante sinistro di l'ante si accovaccia aprisco monaco con le mani palla dentro poi c'è catrisano sull'incertezza di a 7 purelli fa 3 a 0 del valiente velocissimo ora cirillo zona tiro per lui prova a piazzarla la palla finisse sul fondo di nulla occhio a malfitano bene caricchia qui plastica centrale per d'angelo occhio che a campo d'angelo ancora lunga la palcata palla dentro per catrisano catrisano prisco è spaccata due volte poi ma c'è fallo carica al portiere ora catrisano palla dietro per monaco con destro con l'esterno debole squillo di questo primo tempo no c'è anche tempo per battere il calcio d'angelo dentro a cercare qualcuno occhio a lanza marco lanza si gira benissimo palla alle spalle di caricchia finisce con il primo gol del bragantino questo primo tempo 3 a 1 ha segnato marco lanza per cappa bianca ruba bene rispo zona tiro pennellata pazzesca di rispo palla che si spegne sul fondo un soffio alla centrale con e azzetta che anticipa rispo ancora attraversa bianca ancora d'angelo ora l'ante d'angelo ancora palla dentro per l'ante molto bene l'ante l'ante col sinistro 4 a 1 cala il poker l'ante parte malfitano direttamente a caricchia sulla rispita c'eriva nessuno d'angelo di testa per cappa bianca ancora cappa bianca dribbling per i azzetta dentro catrisano non tocca frisco in qualche modo occhio a d'angelo bomba di d'angelo e sibila per cappa bianca occhio ancora cappa bianca palleggio cappa bianca prova ancora un altro sombrero andretta nega la superazione a ky d'angelo di testa sbaglia tutto c'è cirillo lanza con i piedi caricchia alla garell cirillo e lanza parte azzetta caricchia non bene sulla ribattuta cirillo 4 a 2 forse troppo tardi ha segnato le petit diablo ritorna al gol cirillo prova ad andare via manco bordata sul fondo 4 a 2 cala il poker l'atletico valiente la squadra di ky white conquista i primi tre punti di questa titanium league di sostegno al gol e i primi tre punti di testosterone l'atletico valiente la squadra di kywe